Ehi, tu? Chi sei? Chi sei? Lui pulisce le stalle, ci pensa ai cavalli, ogni tanto si ferma qui a dormire, niente. Dove vai? Che c'è? La bella faccia che mi piace a me, che vuole fare un regalo, vieni. Vieni, dai. Antipatico questo cane? Niente, 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 tranquillo, tranquillo, niente carica. Vieni, vieni, farà del regalo, vieni. Ora, signor Igor ti farà un bel regalo, vieni, tranquillo, dai. Vieni, vieni, farà del regalo, vieni. Niente, 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 tranquillo. Vieni, vieni.